L'italiano è la mia seconda lingua perché da sempre comunico, prego e sogno con la lingua dei segni. Sor Veronica Donatello, Francescana Alcantarina, interprete con la lingua dei segni per tutti i servizi del Vaticano ed è responsabile per la CEI del pastorale per le persone con disabilità. Ecco allora, Sor Veronica, pellegrini di speranza è lo slogan del prossimo giubileo, riletto nella sua vita, nella sua esperienza di famiglia, nella sua scelta vocazionale, nel servizio che fa ora, che cosa significa questo slogan? Mi viene in mente quello che ha scritto il Papa nel documento, che la speranza non confonde. Allora forse penso nella mia vita le persone che sono stati questo lume, questo barlume di speranza in tante situazioni della mia vita, della mia famiglia. La speranza è concreta, la speranza a volti, la speranza a luoghi precisi, ecco non è un qualcosa di astratto. Allora mi vengono in mente volti, situazioni, persone che nel pellegrinaggio della vita ti accompagnano, ecco ti accompagnano, ecco veramente per fare quei piccoli passi, perché nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà, nei momenti di turbamento, nei momenti di smaritudine, nei momenti in cui tu vivi cose che non hai scelto neanche tu, che ti capitano, che la vita ti offre, allora veramente il rischio è la solitudine, il rischio è di essere smariti, il rischio è di dire perché, perché a me, perché, perché, allora è di fermarsi, fermarsi al proprio sentimento, allora la speranza ti rialza il volto, ecco io penso sempre di far girare a fianco e sa che in quel cammino non sei solo un po', se dovessi dare un'immagine, l'immagine del cireneo, ecco è colui che a volte capita e con te fa quel pezzo di strada, ecco ti accompagna. I primi compagni della sua vita è stata la sua famiglia, sua sorella e i suoi genitori e questo spiega il discorso della lingua dei segni, ce lo può raccontare? Io ho due genitori sordi, ho anche una sorella Chiara che è una persona con disabilità grave e sia io che mio fratello Claudio diciamo che abbiamo appreso la lingua dei segni, chi più chi meno insomma, in modo quasi spontaneo, in modo quasi naturale, sia la lingua dei segni e sia anche un modo semplificato di parlare, perché Chiara non è sorda, quindi è un altro linguaggio più semplificato, allora sicuramente per me la lingua dei segni è stata la lingua, gli occhi, ecco sono comunque il linguaggio in cui entro in comunicazione, in cui mi relaziono, in cui ecco per me c'è vita, ecco quindi sicuramente come dico sempre, io mi penso in lingua dei segni, penso in lingua dei segni, per me è talmente normale, quindi ho capito che non era normale quando sono entrata in convento, quando mi sono relazionata con altri, mi dicono preghi in modo strano, pensi, ah sì, oddio, a volte veramente il dono delle, cioè sorelle che mi rimandavano, ma anche come ricchezza, cioè veramente come ricchezza la diversità del mio modo di relazionarmi, di pensare, quando uno dice la convivialità delle differenze, che viene da una storia, ecco però da una storia che dicevamo prima negli anni è diventata storia di benedizione, perché non è scontato, ecco che vivere in una famiglia, crescere in una famiglia con persone con disabilità, poi diventi una storia bella, ecco io dico sempre che ho la grazia di avere due genitori belli che vivono la propria disabilità in maniera bella, ne fanno dono, ecco sono persone riconciliate, serene, belle, mia sorella Chiara per noi è un grande dono perché ci riporta sempre all'essenziale, a ciò che è vero, a ciò che è essenziale, ecco Chiara è quella che ci insegna a pregare, ci insegna a stare insieme, e allora credo che la sfida sia proprio questa, ecco nel senso imparare ad accogliere la propria storia come storia sagra, come storia dove veramente lì c'è un appuntamento di vita per te e per gli altri, perché non è solo per te, cioè la tua vita è segno anche per gli altri. Lei leggevo che nella sua storia la lingua di segni è arrivata prima della vocazione, sono in qualche modo legate queste? Sono legate sì, è la lingua in cui parlavo, poi ho sempre fatto l'interprete perché era il mio primo, era il mio lavoro, insomma il mio lavoro primario, poi entrando in convento insomma ho detto va bene lascio tutto, in cui lascio anche la lingua dei segni, sono stati degli anni in cui non ho più usato la lingua dei segni, non ho più tradotto, non ho, e poi alla fine vedo che il Signore serviva questo tempo di purificazione in cui questo dono lo ridonavo, ecco poi il Signore mi ha ridonato il centup, ecco questo devo dire sono, sto vivendo i miei 50 anni, grata, cioè in cui mi giro e dico ma chi l'avrebbe mai detto? Cioè 25 anni fa, qualche mese fa è stato l'anniversario in cui ho lasciato casa, ecco, se mi giro il dietro dico ma chi l'avrebbe mai detto? Cioè benedizione, ecco, quindi la lingua dei segni il Signore me l'ha ridata e mai avrei detto che diventava un dono così grande all'interno della chiesa, ecco, quindi, però serviva anche questo tempo in cui, ecco, di non uso, ecco potremmo dire di restituzione e di vivere serenamente la colla, poi è tornata al tempo giusto, ringrazio i miei superiori che poi hanno colto in questo un segno del Signore. Qui abbiamo San Francesco, gli uccellini, siamo nel giardino della casa. Nel mio convento dove io vivo. Dove lei vive a Roma. Ecco, c'è un punto di vista francescano, Francescano è di chiare chiaramente, che le suggerisce qualcosa in vista del prossimo giubileo sul tema della speranza? Mi viene in mente la fraternità e la restituzione, non appropriarsi, a volte quando credo che la speranza richiama al viverlo in fraternità, la speranza non ha mai il volto di una persona, ma a volti concreti. Quindi il recuperare oggi penso che la profezia che possiamo avere è questo gusto della fraternità. Penso che il mondo francescano ha un po' questo debito nei confronti di tutti, ecco, veramente l'aver scoperto questo grande dono. E dal lato il non appropriarsi. A volte nei Vangeli, ecco, possedeva tutto, ma era posseduto. Allora Francesco ci insegna mai a non possedere, a non possedere doni, a non possedere neanche la ricchezza di una speranza o altro. Ecco là, solo se ne fai dono, il dono si moltiplica, ecco, il dono non si esaurisce. Credo che Francesco ci insegni questo modo da minori di stare, di servire, di operare, ma qualunque cosa si faccia nella vita, ecco, non è il fare, ma veramente l'essere. A volte noi siamo in un tempo focalizzati sull'essere, cioè sull'affare in questo tempo, per noi è importante fare. Noi ci presentiamo con il curriculum, io sono, e invece Francesco ci insegna, e forse su questo ci fa dire che il suo albero sono 800 anni che porta frutto. Allora, forse ciò che conta, sicuramente serve fare, perché serve fare, insomma, Francesco benedice il lavoro, però questo lavoro deve essere correlato a ciò che si è. Allora non è importante dove si serve. C'è un canto che dice servire e regnare. Allora, si serve in tanti modi, ecco, non c'è un servire migliore dell'altro, c'è un servire nell'oggi che tu hai, e credo che come Francescani abbiamo questo debito nei confronti della nostra società oggi, ecco, questo tesoro che ci è stato dato da Francesco. Lei ha incontrato tante persone nella sua vita, c'è qualcuno che l'ha segnata sul tema della speranza, qualche volto che le ritorna? Allora, farei fatica a dirle un volto, perché poi la speranza si rinnova ogni momento, ogni giorno, non è una volta nella vita. Sicuramente ho dei volti per me che sono delle pietre, io ho delle persone, ecco, che sono quelle pietre, come nella Bibbia, cioè quelle pietre dove tu dici su queste pietre, ecco, veramente. Però nella quotidianità ho tantissimi volti, c'è uno scritto del cardinale Tolentino Mendoza che dice noi siamo gli atti, siamo fatti da una catena di volti, ecco, sicuramente mi vengono in mente questi, i tanti volti che nella quotidianità incontro, il volto, forse uno dei volti più belli, sono le famiglie delle persone con disabilità, ecco, gente che con i loro volti, con le loro mani, con il loro silenzio, con i loro sguardi, dice di sì, cammina. Il volto delle stesse persone con disabilità che combattono, che piano piano lottano affinché cambino i punti di vista. Mi vengono in mente tantissimi, cioè sacerdoti, sorelle che quotidianamente, oggi ero all'università, ecco, il volto di alcune sorelle che mi dicevano, guarda, io faccio questo servizio con queste persone disabili gravi, quindi mi viene da dire non c'è un volto, ecco, credo che il Signore ogni giorno mi alleni a essere un po' vigile, attenta, a capire quali sono quei volti che mi dona, quali volti, e sono veramente, devo dire, proprio vari, sicuramente quelli che mi commuovono tanto sono il volto, ecco, il volto loro e dei genitori, ecco, sicuramente, ecco, questo tanto. Immagino che al servizio della Scei arrivino tante richieste, quali sono le più frequenti e cosa la tocca maggiormente? Allora, guardi, quelli, ne arrivano tanti, allora arrivano tante cose belle, perché mi arrivano anche tante condivisioni, tante mail in cui mi dicono, guardi, abbiamo quel pezzettino di terra e, insomma, stiamo facendo questo, stiamo facendo questo, quindi tanta condivisione, mi arriva che è bello, perché mi viene a dire che l'Italia ha tanti germogli, ecco, l'Italia ha tanta freschezza, tanta gente che si sporca le mani, ha tanta gente che vuole fare, tanta gente che vuole restituire, molta gente che mi dice, guarda, io ho avuto tanto dalla vita e vorrei restituire, vorrei condividere con, quindi questo è bello. Mi arriva anche, però, contemporaneamente tanto grido, il grido a volte delle persone con disabilità che dicono, ma noi siamo persone, non siamo solo il nostro deficit, noi non siamo malati, noi siamo persone, persone con disabilità, cioè la disabilità non è una malattia, allora noi vorremmo, praticamente, desidereremmo un progetto, perché per noi la parola vocazione è una parola che non esiste, perché noi il progetto è solo finalizzato all'età scolastica, all'età evolutiva o alle iniziazioni cristiane, ma perché dopo noi non esistiamo? Allora, il tanto grido che arriva è del mondo dei giovani e adulti con disabilità, che chiedono di poter vivere, che chiedono di poter esistere, di potersi sporcare le mani nella loro terra, nella loro parrocchia, ecco, e allora, ecco, questo è il grido più forte che mi arriva, dai genitori l'ansia grande del dopo di noi, sorella ho timore, anche se non vado in chiesa, dice, però che succederà a mio figlio quando io non ci sarò? Allora, veramente, ecco, è la cosa che devo dire bella, che come, cioè, si sta lavorando sul durante di noi, sul dopo di noi, anche sull'avviare progetti che facciano rete, che non siano solo a capo di uno o dell'altro, ecco, non restare indifferenti a questo grido, ecco, ecco, sicuramente sono da un lato la bellezza e da un lato il grido che arriva. Spesso parla di un paradigma nuovo proprio per l'approccio al mondo della disabilità, cosa vuol dire per la chiesa, per la società? L'ho accennato praticamente prima, a volte quando si parla di disabilità si pensa all'assistenza, io mi prendo cura di loro, loro soggetti passivi, oppure si pensa alla riabilitazione, quindi tu ti trovi a 50 anni, in quei luoghi dove a 50 anni che fai il lunedì l'ippoterapia, il martedì l'gattoterapia, il mercoledì l'arteterapia, va benissimo, ma io penso io ho 50 anni, dopo un po' direi anche no, ecco, vorrei una vita, vorrei anch'io, ho dei desideri e non perché un'altra persona abbia 50 anni come me, ha i miei stessi desideri, bisogni. Allora il paradigma nuovo è guardare l'altro come persona, che è una parola bella, piena, tutti, a prescindere, cioè nessuno di noi, sia che lo nasci con disabilità, sia che lo diventi per un evento, una malattia, un infortunio, quello che la vita a volte, cioè il numero sono 13 milioni, non stiamo parlando di quattro gatti, allora credo che la sfida grande sia guardare l'altro nell'ottica della progettualità, allora però questo sfida a noi come società ecclesiale e civile a dire allora devo offrire risposte e sostegni diversificati, non posso dire tutti fanno questo, tutti fanno questo, e no, e questa da un lato è una fatica, ma da un lato è bello perché io ti guardo secondo l'ottica dei desideri, c'è una scrittrice che dice sappiamo quello che hanno ma non chi sono, allora ecco, la sfida grande è conoscere l'altro, Ann Arendt, ovviamente lei dice non dire che tutti down o Marco perché down, quindi tutti down hanno quella, tutte le persone con autismo o chi praticamente diventa disabile a 50 anni, cioè noi non possiamo omologare le risposte, l'altro ha una sua storia, ha dei suoi desideri, bisogni, ma come vorremmo essere visti anche noi, di fondo loro non chiedono nient'altro di quello che vorremmo anche noi nella nostra storia, ecco, è solo che loro ce lo rimandano in maniera forte, ecco, vorrebbero essere visti come persone e non un abito uguale per tutti, no, non esiste, è una sfida, però è una bella sfida che si sta cercando di affrontare, di accompagnare, di far rete tra le diocesi, associazioni, cioè movimenti, le stesse persone con disabilità che studiano, lavorano, che dicono ehi ma noi abbiamo voce attiva, ecco, anche noi il cammino sinodale è una grande sfida, per noi molti diocesi si sono lasciati provocare dalla loro presenza o hanno visto com'è che non ci sono, ma questo è bello, allora qui cambia il paradigma, cioè piano piano inizia a cambiare, non è una parola vuota, ma è un processo, come dice il Papa, ecco, è un processo. Rendere ragione della speranza che è in noi, quali sono le frasi, i brani della Bibbia che l'aiutano in questo cammino? Guardi, mi viene in mente proprio dei brani legati alla prossimità, all'esserci, alla consolazione, ecco, mi viene in mente proprio, pensando a questo brano, tanti brani nei Vangeli, ma anche nella Bibbia dove si è a fianco all'altro, dove tu ci sei a fianco all'altro, dove tanti profeti, proprio l'esserci, l'esserci nella storia, ecco, a volte il timore e l'essere afoni, a volte la gente sente che la Chiesa è afona e questo non dà speranza, dà disperazione, solitudine, allora mi vengono in mente tanti tanti salmi, tanti salmi, i salmi dell'esilio, praticamente dove l'altro non è solo, ecco, dove l'altro sa che ci sei, Emmaus, ma potrei dire un elenco, la Maddalena, tantissimi brani e situazioni dove tu non ti fermi davanti a quel dolore, piccolo, grande, è un dolore che si vive, ma c'è qualcun altro che ti aiuta a voltare, ecco, a intuire che c'è altro e su questo penso che le persone con disabilità in questo tempo storico, più che mai, come dice il Papa, sono loro i buoni samaritani, cioè sono loro che possono curare le nostre ferite del soggettivismo, dell'egoismo, del pensare che noi salviamo il mondo, invece il Papa aveva l'incontro con il mondo dell'autismo e disse siete voi i buoni samaritani, cioè siete voi coloro che aiutate e questo è uno scandalo, che noi siamo abituati noi a fare qualcosa per loro, invece sono loro che salvano noi da noi e allora mi viene in mente questa prossimità, veramente tanti, tanti brani, storie, c'è situazioni dove sei a fianco all'altro, ecco, e quello è speranza, una speranza concreta, che sia parola, che sia gesto, che sia curare, accompagnare, che sia essere, direbbe Francesco, davanti alla porta chiusa dell'altro, quante realtà dove i genitori non si parlano con i figli, lo stare davanti a quella porta chiusa, però starci da solo è disperante, starci con un altro che ti dice guarda, prima o poi, non ti preoccupare, fidati, ecco, la speranza, ecco, la perfetta letizia, ecco, però non esserci soli e questo credo che dia speranza. A lei cosa dà speranza nei momenti più bui? A me cosa dà speranza? Ho in ufficio una marea di foto dove mi commuove sempre, poi me lo sono stampato tantissime foto, dove mi scrivono tu sei qui per me, allora ricordarmi che il mio fare, il mio essere, il servizio non è per una categoria, ma è per Eliana che è in cielo, è per Carlo, è per dei volti, è per delle storie, e per me è quello che mi aiuta nei momenti di fatica o di dire ma che serve stare dentro delle carte, a volte nei momenti in cui la quotidianità fa fatica a tutti, nessuno esente, aver stampato queste foto, queste foto loro con i loro volti, come abbia scritto i caratteri grandi, tu sei qui per me, allora questo mi fa dire sì, ne vale la pena, ne vale la pena essere quel seme che muore e porta frutto, ecco, essere, e loro sono speranza per me, perché la speranza è reciproca, non si dà solo ma si riceve, e ecco, su questo penso veramente alle mille foto che ho in ufficio da me che non posso non vedere, perché proprio davanti a me, l'ho fatto apposta, così mi ricordo sempre, ecco, per quello dico che i poveri, i fragili, veramente l'ultimo, è un grande segno di speranza, come dice il Papa, è una contraddizione che in questo periodo questa storia fa bene, fa bene a noi e a loro fa capire anche la preziosità del loro esserci, la preziosità, veramente della loro vita, le famiglie, insomma, in queste foto c'è di tutto, ci sono i volti della quotidianità, ecco, i grandi della terra per me. I grandi della terra, il 2025 sarà l'anno del giubileo della speranza e si paventa una terza guerra mondiale, come dice il Papa, cosa le suscita a questa situazione? Mi fa paura, mi fa paura perché alla fine i poveri pagano, sono loro che pagano alla fine la guerra, quindi da un lato il grido e la preghiera, ecco, meno male che il Santo Padre parla di tante guerre, perché a noi ce ne vengono in mente due, ma dicevano che erano più di 50 le guerre in tutto il mondo, quindi tanta gente che sta pagando e pagano le donne, pagano i piccoli, pagano le persone anziane, le persone fragili. Da un lato mi fa paura e da un lato veramente grido che il Signore possa, è colui che può veramente trasformare il cuore, ecco, che l'interesse del bene comune, non solo cioè soggettivo, ecco, possa prevalere, ecco, che si aprano spiragli e negoziazioni di pace, un po' come il Papa nella Fratelli Tutti ha più volte ricordato, ecco, quindi un grido di speranza. Parlavamo dei volti di pace, di un brano biblico che rievoca, che suscita la pace, ma ci possono essere anche dei libri o delle melodie o un'opera d'arte che aiutano a riflettere, a meditare sulla pace? Guardi, a me la parola pace mi viene in mente quando in lingua dei segni, alleanza, o proprio la parola pace, come si può dire, pace legato in terra o pace. Allora, che poi è anche il simbolo del nodo di Salomone ad Aquileia. Mi viene in mente, io amo tantissimo l'arte, chi mi conosce sa che l'impressionismo, le nifre di Giverny, quando alla fine tra il cielo e la terra, lui l'aveva dipinto dopo la guerra, non c'è confine, allora questa pace che non delimita spazio, ecco, questa pace dove ci si confonde, ma un confondersi bello. Allora, ecco, queste sono le immagini che mi porto, che ho stampato, che mi porto dentro, ecco, veramente questa, ecco, questa pace tra il cielo e la terra, ma si ha pace solo se si alza lo sguardo e ci si ricolloga presso altro, ecco, perché direi che sicuramente è una realtà complessa se si vede solo a livello orizzontale la pace. E quindi, ecco, veramente questo segno, questo segno di alleanza, ecco, di questa pace che avviene solo se c'è unione tra cielo e terra. Quindi, ecco, tra questo infinito. E questo è l'augurio anche per il prossimo giubileo. Lei cosa spera per la Chiesa che si accingi a vivere questo giubileo? Che si lasci provocare dalla storia, che veramente questa speranza ci ridoni il coraggio, ecco, sempre più di essere un popolo di, che sia sale, ecco, che sia sale, che sia sale ovunque che si è, che sia presenza, che sia volto, ecco, che da questi eventi scaturiscano poi dei processi all'interno delle proprie realtà, delle, cioè, sinergie. Ecco, veramente l'augurio è che si metta in moto un vento nuovo dello spirito, ecco, che più che essere timorosi, ecco, si abbia questo coraggio. E su questo credo che le donne, come la Bibbia ci insegna, insomma, mi sembra che sono anche delle, sono anche una grande forza. Allora veramente credo che la ventata nuova arriverà dai piccoli, arriverà, insomma. Questa è la speranza mia, che ci si lasci provocare. Ce lo dice con la lingua dei segni? Cosa? Che mi lascio provocare o l'augurio? L'augurio di speranza. L'augurio di speranza. Grazie. Grazie. Grazie.